Eccola qua La scritta Poi qui possiamo trovare La chiappa sogni che avete visto in video Il copricapo della foglia di Sakura Questa è l'altra action figure Che abbiamo preso Eccola qua Mi sa che registrerò tutti i prossimi video Con la telecamera del telefono Perché vedo che si vedono benissimo Meglio della GoPro Qua troviamo la maglia Penso che c'è tutto Questo si incastra sotto Prendiamo anche il dietro Se metto a fuoco qui C'è scritto 2019 Quindi praticamente è molto nuova Questa action figure La serie nuova Ecco qua Metti a fuoco Perfetto Funziona da dio Guardate i dettagli Questa è l'altra Con il diorama dietro Puzzle Dragon Penso sia un gioco giapponese Per telefoni Comunque se lo conoscete Lasciatemi un commentino Perfetto ragazzi E questo è tutto Grazie a tutti Grazie a tutti